Musica Questo mese sul Caffè Lab vi presentiamo un caffè decaffeinato, il primo caffè decaffeinato di Caffè Lab. Questo caffè proviene dal Messico, a Sienda Salinas, siamo nella regione del Chiapas e viene coltivato sui 1700 metri di altitudine. Le varietà botaniche sono Caturra, Tipica e Bourbon. Questo caffè viene lavorato con il metodo lavato che dona alla sua tazza una piacevole acidità. Per rimuovere la caffeina da questi chicchi è stato utilizzato un solvente naturale come l'anidride carbonica. In tazza presenta dei piacevoli sentori di caramello, miele, ha una corposità rotonda e piuttosto leggera. Nel retrogusto troviamo sentori di cioccolato e zucchero di canna. Musica 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 Musica